ciao 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 a tutti oggi devo mostrarvi il contenuto di questo pacchetto arrivato da amazon amazon prime io mi sono abbonata a servizio amazon prime perché mi dà la garanzia di non dover mai pagare le spese di spedizione e in più è molto veloce appunto la consegna degli articoli arrivano normalmente nelle 24 ore o 48 ore al massimo in questo caso ci è venuto un po di più perché sono arrivati dall'estero questi prodotti ma comunque in tre giorni sono arrivati per cui non lamentiamoci assolutamente tanto più che servizio amazon prime nel frattempo avete sentito tossire la mia piccola alice il servizio amazon prime dà la possibilità anche di del servizio amazon video praticamente appunto si rimane con l'abbonamento amazon prime si è anche l'abbonamento al servizio video che è più o meno tipo infiniti o o l'altro o netflix ecco l'altro ci sono tantissimi film e tantissime serie devo dire la verità però io ne usufruisco gran poco perché non ho molto tempo comunque bando alle ciance a non so se vedete la mia chi le mie unghiette da capodanno fatte io e non non le ho fatte una per una questi sono tutti adesivi però stanno resistendo molto bene devo dire adesivi tutti presi in in aliexpress comunque torniamo al contenuto del mio pacchettino è vero anche alice aveva messo gli adesivi sulle unghiette poi gliele rimetto ancora perché le sono piaciuti tanto vero alice che vocina delicata ma ecco qui cosa contiene il pacchettino allora siccome mille mi sto ispirando per i disegni della mia agenda tanto ai disegni che trovo in questa volta invece che mi interessa appunto in instagram nelle pagine nei profili dedicati ai di bullet journal bullet bullet journal insomma quelle cose lì mi è venuta questa voglia di comprarmi un po' di queste agende che sono appunto destinate a questo tipo di lavoro di decorazione appunto che è il bullet journal io sinceramente non so se riuscirò a farci qualcosa perché il tempo è quello che è e già ho poco tempo per la mia agenda ma ero affascinata da questo nuovo tipo da questo nuovo non so se sinceramente non so se si dice bullet 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 credo bullet journal però vabbè insomma eccoli qua e sono questo con i gattini poi questo con le sirene graziosissimo anche questo devo dire e questo con l'unicorno e la scritta gli unicorni sono reali l'unicorno reale e l'interno penso siano tutti uguali vediamo eh sì 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 sono tutti uguali c'è questa prima pagina per il nome i contatti un attimo arrivo amore poi questo questa parte e poi il le classiche pagine un attimo intanto tieni che ho la mia busta per favore grazie è legata nel seggiolone si lega da sola poi non è più capace di slegarsi allora dopo la vado a liberare e dicevo le pagine sono quelle puntinate che sono fatte apposta appunto per schematizzare per disegnare in modo preciso sono davvero carini adesso non ricordo il prezzo mi sembra sui 5 euro l'uno se non non ricordo male devo solo pensare come utilizzarli sono davvero molto molto carini sto pensando che io cos'è successo lì c'è mi spiace poi ti curo poi ti curo sto pensando di usarne uno per gli appunti di relativi a youtube perché in realtà io quando devo prendere un appunto per le mie video sto usando un quadernaccio davvero bruttino e tenuto male magari è ora che mi metto a fare le cose sul serio invece io vi ringrazio per la visione spero vi siano piaciuti i miei i miei nuovi acquisti vi saluto tutti con un abbraccio un sorriso e al prossimo video alice di ciao anche tu ciao ciao ciao